condivisione di questi principi e di queste radici di questo gesto su questa condivisione che nel momento in cui invito le istituzioni o le aziende o quelli presenti qui reagiscono facendosi in quattro come l'esempio dell'Alessandra per esserci perché quest'anno era già impegnata e invece si è liberata per esserci e è un appoggio concreto, ci ospitano, ci supportano, ci aiutano a far sì che la colletta accada e riaccada anno dopo anno così come il questore che ci siamo conosciuti l'anno scorso ma è un impeto il fatto di esserci